Le tele del Tiepolo tornano virtualmente nel Salone Veneziano per il quale erano state dipinte. Nell'ambito delle celebrazioni per il 150 barra o anniversario dell'Università Ca' Foscari di Venezia, è stato inaugurato nella sede storica di Ica Adolfi in un percorso esperenziale che riporta nell'Aula Magna Silvio Trentini dipinti di Giambattista Tiepolo, restituendo virtualmente il Salone all'aspetto che aveva nel 700. Il progetto, curato da Chiara Piva, docente di Museologia e Storia Ca' Foscari con la partnership tecnica dell'area Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo, è nato dalla collaborazione con Microsoft e sarà attivo dal 26 maggio. La tecnologia digitale fa rivivere le dieci tele di Giambattista Tiepolo, in origine collocate a Ca' Dolfi ne attualmente custodite al Metropolitan Museum di New York, all'Ermitage di San Pietroburgo e al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Una volta indossate le ululensi visitatori, oltre a poter ammirare i teleri, tramite gesti della mano percepiti dal visore potranno interrogare le opere d'arte per conoscere i loro aspetti peculiari. Copyright riproduzione riservata Giovedì 17 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 15 e 56